Sono Rick Dalton. È la mia controfigura, Cliff Booth. Gli attori devono fare un sacco di cose pericolose. Qualcuno qui ha ordinato crowd i flambè! Cliff qui ha la parte più dura. Sembrerebbe un buon amico. Ci provo. E chi è venuto a vivere vicino a me? Sono Sharon Tate. Il regista più gettonato della città, per non dire del mondo. Signora? Oh oh. Arrivano i guai? Tutti quei morti. Adoro questa roba. Cosa ha detto Charlie? Ha detto ammazzate tutti. Qual è il piano? Prendiamolo. C'è un elemento di vero combattimento, se non lo abbatti. Ti uccide. Non sei Rick Dalton a fucile a pompa. Quell'arma è una gran brutta bestia. Non ti auguro di ritrovarti là davanti. Che cazzo. Dai, è troppo caldo. Non ci si può fare niente. Rick, è un lanciafiamme. Già. Non ci si può fare niente. Non ci si può fare niente.